L'Europa ogni anno perde 3 milioni di persone in età lavorativa, che non sono sostituite da altre. L'Italia 300 mila. Questo già ci dice che questi numeri sono molto più alti degli arrivi in Europa e degli arrivi in Italia. Ma gli arrivi in Europa e gli arrivi in Italia non devono continuare ad essere come sono adesso, cioè non gestiti. Arrivi irregolari perché impediamo alle persone di arrivare regolarmente. Bisognerebbe riaprire dei flussi irregolari e gestirli, decidere come, da dove, quanto spendere per integrare. Perché l'altra grande partita è questa. Noi oggi stiamo spendendo essenzialmente per accogliere le persone. Mentre invece le persone vanno integrate. E non è una spesa improduttiva, è un investimento come la scuola. Potrebbe al limite essere ancora più conveniente della scuola perché l'integrazione consente di adattare a un nuovo ambiente persone che prima stavano in un altro, ma con una durata molto inferiore a un percorso scolastico. Ecco, questa è la partita che oggi abbiamo di fronte, di cui siamo però totalmente inconsapevoli a livello politico ma anche a livello culturale e giornalistico. E quindi questa è la sfida che abbiamo davanti e che dobbiamo affrontare.